Buongiorno, sono Diana 924 e questo è il mio canale. Oggi abbiamo, come penso abbia già intuito, un video su un periodo drama, perché questa è una sessione di periodo drama, dedicato ad una serie spagnola e ritorno alla rubrica quella dei confronti tra film e TV e romanzo da cui è derivato. Lo so, l'ho già fatto la volta scorsa, ma questo è un primo, lo facciamo e meglio è, perché comunque ci tengo. Diciamo che è importante, va fatto ed è un peccato che sia passato sotto silenzio, perché tranne uno o due entusiasmi iniziali poi io non ho visto nessuno parlarne. E francamente questo non mi piace, perché a me sempre le serie spagnola, a mio parere, sono molto discriminate per il corpo delle telenovelze. Maldita si! Comunque, se avete capito, quello di cui voglio parlare oggi è Ines dell'Alma Mia, tratto dall'omonimo romanzo di Isabella Yender. Allora, Ines dell'Alma Mia è una coproduzione ispano-chilena, ossia Boomerang TV, Chile Television e RTVE, che hanno realizzato un immenso colossal. Poi, RTVE lo ha venduto a Prime e lo ha venduto anche ad altri emittenti nazionali e per questo ha chiuso lo streaming sul suo canale a chi non è spagnolo. L'ho scoperto a me spese quando avevo intenzione di vederla fin dal principio in spagnolo, ma, come ho già detto, non mi è stato possibile, perché appunto appariva il messaggio se non abiti in Spagna non puoi vedere questo video. E al di là delle varie impegazioni ho detto, aspettiamo perché se la mettono su Prime, prima o poi la metteranno anche su Prime in Italia. Da noi vi sarei aggiudicata Canale King, che l'ho mandata in formato, come sembra, due puntate unite per tutto il mese di agosto, tant'è che domenica è terminata l'ultima puntata. Come già detto è divisa in otto puntate, copre tutto il libro, ma non in maniera fedele, ma forse più fedele alla storia di quanto sia il romanzo. Ora vengo e mi spiego. Di Ines Suárez, di base, non si sa quasi nulla, solo quello che si è intuito seguendo più che altro i suoi uomini della sua vita, di se personalmente non sappiamo nulla. Si sa che è stata una delle pochissime donne che hanno preso parte attiva alla conquista del Sud America. Si sa che la sua relazione con Valivia, che non può essere smentita in quanto le fonti e gli atti ci provano che era l'unica donna. Ecco, e quindi in qualche seconda. Grazie. 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 è forse uno dei grandi cambiamenti. E' quello che io ho più accettato, ossia, nel romanzo i due si vedono una volta, colpo di fulmine a prima vista, tatà, fuochi d'artificio, accettabile, bello, romantico, mentre nella serie è tutto più, diciamo, slow burn, come direbbero gli americani. I due si incontrano la prima volta quando Ines è ancora in Spagna ed è bezza fidanzata con Juan. Hanno uno scambio, ma nessuno dei due ci ripensa più. E si rivedono poi a Cusco, dove lentamente comincia la loro storia d'amore. È una visione un pochino più probabile. D'altro canto, anche nel romanzo, il personaggio di Ines ammette che lei poteva aver incontrato Pedro, che lui poteva averla incontrata, ma che non diciamo ne avevano badato all'altro, perché erano troppo diversi per poter avere un vero scontro, o comunque potersi davvero ricordare dell'altro. E questo è interessante vedere. Nelle serie, quindi, loro sono, come dire, preordinati, come se il loro successivo incontro fosse un segnere e del destino. Anche, diciamo, la storia con Rodrigo dei Quiroga viene mostrata sotto lo stesso ambito. Nel romanzo, sì, sembra, diciamo, un fuoco che cova sotto le ceneri per anni. Poi, dà, esplode anche questo. E' lo stile dell'Aiene, del solito. Qui, invece, diciamo, è qualcosa che nasce lentamente. Prima un'amicizia, poi una stima, poi, infine, un amore sentito, tenere, infine, il matrimonio. Ce ne è mostrati in maniera diversa, tra la serie e il libro in cui Pedro viene ancora di più caricato come, sì, un uomo buono, un uomo misericordioso, un uomo con un sogno, ma che si è perso a causa della sua sete di conquista, di denaro, di desiderio di fama. A tal proposito, un altro ampiamente che mi è piaciuto è stato quello che riguarda il piccolo Esteban, ossia, diciamo, il ragazzino che si prende una porta per Ines. Nel romanzo, una o due pagine, è proprio così per dire un diversmo, una parentesi. Mentre qui è qualcosa di molto più graduale e ci fa intuire come il ragazzo abbia notato Ines, si sia innamorato, barra il fatto di lei e abbia maturato la sua idea che Ines sia costretta a servire Valdivia come una donnazza. Nel romanzo, essendo, solamente dal punto di vista di Ines, è una regressione quasi inutile. Quindi è un bene. Viene ampliato, ma non troppo, il ruolo della domestica Catalina. Viene invece diminuito il ruolo del personaggio di Cecilia, che d'altra parte è un personaggio puramente fittizio. Io al suo tempo ho cercato in internet e non risulta che un personaggio simile sia esistito. Vengono ampliate anche le parti di Cusco, a detenimento delle parti di quelle di Santiago. Vengono eliminati alcuni personaggi, tra cui, e questo a mio parere è un grandissimo svantaggio, il personaggio di Isabel de Chiroga, la figlia di Rodrigo, che la ebbe sembra da un indigena, comunque una serba, di origine Quechua, forse Mapuche, non si sa. Sia solo che quando Ines nel 46, anzi nel 49 lo sposò, Rodrigo de Chiroga aveva già questa bambina, ma alla madre non c'era più. Pertanto nella serie l'hanno tolta, ma per me è stato l'unico errore grande. Anche non c'è la postfazione di Inesenziana che racconta la sua vicenda o che la scrive, quindi si può togliere. Si ampia molto anche il ruolo di Cusco, degli intrighi attorno ai fratelli Pizarro, in cui si inserisce il personaggio di Santiago de Laorschi, assume una certa tridimensionalità. Molto interessante è che avrei voluto fosse ampliato il rapporto tra la popolazione Quechua, ossia Inca, come si dice in occidente, e i Mapuche, ossia questo rapporto di un po' di superiorità da entrambe le parti. Dal lato i Quechua, ossia Inca, ossia il 90%, quelli da cui io dicendo, avevano tentato di conquistare i Mapuche, in quanto erano superiori sia per armamenti sia per tecnologie, ma i Mapuche erano di più, erano più agguerriti, più combattivi. Tanto che lo sconto tra l'inviato Mapuche e l'inviato Quechua richiama un po' questa sorta di differenza tra uno che lo definisce selvaggio e l'altro che lo definisce fantoccio, debole, insomma debole e raffinato, come se appunto faceva uno scontro che viene momentaneamente accantonato proprio a causa degli Spagnoli. Diciamo che molte vicende che riguardano la presa dell'impero Inca non sono state inserite, sarebbero state troppo troppo, avrebbero perseguita le storie. Anche la lotta tra Almagro e Pizarro viene tralasciata, viene mostrata molto velocemente. La rivolta contro il Satelli Bizarro viene anche quella mostrata, tac, tac, tac. E non lo può intuire che a menù del che perro viene richiamato. Quindi sì, fatto bene, fatto a modo suo che si distacca, ma con un garbo, ossia viene fatto bene, viene mostrato che dietro c'è attenzione. Non so se avrei preferito qualcosa di più aderente al romanzo, che è uno dei miei preferiti, della Yen, o se avrei preferito qualcosa di più staccato. Francamente questa città mi è molto piaciuta, devo dire. Veniamo ora al casto, perché è giusto. Allora, nel ruolo di Ines abbiamo Elena Rivera, mia coetanea, che è anche lei del 92, lei di giugno, io di aprile, che a differenza di come viene scritta nel romanzo, ha una forte chioma rossa, palesemente tinta. Questo per rendere, diciamo, più evidente Ines, per farla apparire, come si dice dalle mie parti, spiccare, tra gli altri. Infatti nel romanzo l'unica descrizione di Ines ce la dà di capelli neri, come gran parte delle spagnole. Qui invece hanno una scelta di differenziarla. E ammetto che questo mi è apparso un po' strano. Anche perché inizialmente, diciamo, quando si diceva della Rivera, e la Rivera è cassata, quindi pensavo che Massimo l'avrebbero un po' tinta di nero, che stanno scuro, non rosso. Le sta molto bene, ma capisci che dietro c'è una scelta precisa, che non mi sento di approvare, ma che comprendo. Poi abbiamo Edoardo Noriega, nel ruolo di Pedro de Valdivia, e da dire che la differenza di età tra i due si vede, specialmente nelle ultime puntate, ma che comunque funziona, perché anche tra le versioni di Ines e Pedro de Valdivia c'è una certa differenza di età, chi può stare. Poi abbiamo Carlos Bardemmo, il fratello di Javier, che a mio parere è bravo tanto quanto il fratello, nel ruolo di Diego de Hermano, quindi un piccolo ruolo da gestare, ma che comunque lo fa rispendere, perché Carlos Bardemmo se lo merita, come tutti i Bardemmo. Poi abbiamo Enrique Arsè, Reduce della Casa dei Pappelli, che a quanto pare è tapcasted, per certi ruoli un po' tipaticini, che gli riescono molto bene, sta molto bene imparsettato, e qui diciamo il suo personaggio ha avuto non tanto un tracollo, però è avvenuto quello che deve accadere prima di quanto avvenisse nel romanzo, che ha senso per certi aspetti, ha senso. E poi, e questa è una vera chicca per chi conosce un po' le serie spagnole, abbiamo Federico Aguado e il ruolo di Hernando Di Zardo. Ho detto che è una chicca per un motivo. Federico Aguado ed Elena Rivera hanno già lavorato insieme, né il mio amato Ministerio del Tiempo, dove interpretavano, nello stesso episodio, Re Filippo III e Margherita da Sburgo, marito e moglie. Ecco, perché quando li ho visti la prima volta ho pensato, oh mio Dio, è un grosso ove! Perché era tipo E ogni tanto questi scherzetti li fanno. Quindi, come ho già detto, a me la serie è piaciuta molto. In conclusione, sì, è promossa, certo. Non è, diciamo, un colosso molto santuoso, è molto minimal, perché parla di Santiago come di una città in costruzione, quindi non possiamo far vedere grandi palazzi stile coloniale, si limita a vedere strade molto dissestate, anche abitazioni, ancora in legno, massimo la chiesa, quindi non ci aspettiamo chissà quale scenografia. I paesi sono meravigliosi, si vede che hanno girato sia in Perù che in Cile. e mi chiedono come abbiano fatto nel deserto di Atakatama, perché è un luogo assolutamente inospitale. L'ora lo è anche oggi. Quindi sì, fatta bene, con quindi buone scenografie, una buona sceneggiatura per cantare tutto un prodotto molto, molto valido, buone musiche, buoni personaggi, ma che ha poco a che fare con il romanzo da cui tratto e più che altro diciamo ha molto più a che fare con le vicende storiche in sé, il che è un po' strano in effetti. Quindi se qualcuno l'ha vista, mi scrive qui sotto nei commenti cosa ne pensa e come l'avrebbe voluto sia più aderente ai fatti storici come la serie tv o più che, diciamo, seguisse il romanzo con le stesse caratterizzazioni, le stesse situazioni, perché questo è un argomento molto interessante, anche in base appunto alla questione etnica, alla questione del riprendere. la missione e la conquista delle Americhe per come è stata trattata all'epoca, come è stata trattata oggi, i vari punti di vista tra il punto di vista spagnolo, il punto di vista appunto chileno, peruviano, colombiano, anche messicano, è molto interessante in parte poter fare una cosa simile. e direi che questo è tutto, signora e signora, ciao a tutti! ciao a tutti!